salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale oggi voglio parlarvi di uno strumento uno strumento importante per noi fotografi che questo il lupe cioè un ottica per i nostri occhi tutto questo chiaramente dopo la sigla eccoci eccoci qui tornati sul mio canale e come dicevamo questo è uno strumento molto importante ma molto sottovalutato e adesso vediamo anche il perché prima ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanella qui sotto e nel caso non lo aveste ancora fatto seguirmi anche sui vari social ogni tanto pubblico qualcosa quindi mi farà sicuramente piacere avere un'interazione con voi bene parliamo del lupe questo questo strumento che ha questo nome curioso onestamente non saprei neanche come si pronuncia io lo pronuncio all'italiana lupe e benvenga ora come avete visto io qui ho un tavolo un tavolo luminoso con su il negativo questo tavolo luminoso della kaiser e ho su il il mio negativo è un tavolo luminoso perché lo abbiamo detto più volte a noi serve un tavolo luminoso per poter visionare il nostro negativo ma anche le eventuali nostre diapositive perché le dobbiamo visionare innanzitutto le dobbiamo visionare per verificare se abbiamo fatto la perfetta messa a fuoco perché la stampa costa perché la stampa richiede del tempo quindi prima ci renderemo conto dell'esposizione della messa a fuoco della composizione anche prima impareremo a leggere il negativo se è stampabile o meno e più tempo risparmieremo e più soldi risparmieremo perché poi stampare costa e come facciamo tutto questo beh lo facciamo attraverso due strumenti principalmente attraverso un tavolo luminoso e attraverso un lupe cioè una fondamentalmente una lente di ingrandimento ora non che tutto questo non possa essere fatto con una lente di ingrandimento ma vediamo di farlo in maniera più accurata perché ovviamente ci serve accuratezza nel nostro nel nostro lavoro quindi quindi lo andremo a fare con un lupe con un tavolo luminoso una volta si faceva con un tavolo luminoso fatto in casa che ancora oggi si può fare in casa molto facilmente ma i prezzi dei tavoli luminosi quelli che vengono utilizzati per ricalcare i disegni sono assolutamente abbordabili non c'è bisogno che compriate un kaiser come quello che ho io che sicuramente è un ottimo tavolo luminoso ma costa anche un po di più ma un banalissimo tavolo luminoso per per ricalco andrà benissimo certo l'importante che sarebbe la luce sarebbe tarata insomma ci sarebbero degli accorgimenti però al di là di quello diciamo che all'inizio sicuramente ci potremmo accontentare anche io ho utilizzato quello prima di prendere questo questo tavolo della della kaiser questi sono molto meglio dei tavoli luminosi che si avevano allora perché hanno un'intensità di luce maggiore essendo a led mentre i tavoli luminosi che si utilizzavano che venivano utilizzati prima non erano a led e quindi avevano un'intensità luminosa diversa vedete questo quanto è bianco è acceso perché questo adesso si è spento comunque è anche a batteria quindi può essere ricaricato usb ed è un tavolo luminoso che io trovo assolutamente fantastico vediamo di riaccenderlo eccolo qui riacceso e quindi si carica usb e poi non ha bisogno del cavo oppure può essere alimentato direttamente usb e questo ci permetterà di visionare i nostri negativi mi raccomando se non avete i guanti teneteli sempre per le estremità e i guanti bianchi tuttavia sono d'obbligo per maneggiare i negativi e poi avremo bisogno di questo che è un lupe ora parleremo proprio dei lupe perché è l'argomento che più ci interessa in questo momento intanto spengo il tavolo luminoso così non mi si scarica perché dopo dovrò visionare degli altri negativi e questo che utilizzo io vedete quanto è grande veramente un gran lupe mi vedete anche girato all'interno della lente e può essere riposto sul piano luminoso attraverso anche il suo tappo viene proprio appoggiato così e lasciato lì se avrete un un posto dove dove lasciare il tavolo luminoso io non ce l'ho quindi sono costretto in ogni caso a diciamo riporlo tutte le volte comunque questo a mio avviso è uno dei migliori che esiste sul mercato proprio per la grandezza dell'oculare perché noi dovremo andarci a mettere dentro l'occhio fondamentalmente e ci dovrà permettere di vedere molto molto bene ora quale scegliere un po riguarderà voi più che altro io vi darò soltanto delle indicazioni questo che ho io che era proprio aspettate perché qui era ecco perché la luce mi va proprio contro la scatole non vedreste nulla questo è un un pentax come potete vedere un fotolupe proprio apposito 5.5 questo è il rapporto di ingrandimento perché utilizzare un rapporto di ingrandimento 5.5 semplicemente perché mi fa vedere tutto il fotogramma di un 35 mm quindi in un 35 mm ma poi vedete quanto è grande anche il 6x6 me lo copre abbastanza mi dà l'idea mi fa vedere abbastanza bene e mi fa vedere perfettamente la mia foto sia nella composizione che nei dettagli salienti quindi esposizione quant'altro non sempre è adattissimo per quanto riguarda invece la la messa a fuoco per la messa a fuoco se vorrete essere proprio dei dei precisi esistono dei dei lupe che hanno dei rapporti di ingrandimento molto più lavati questo a me onestamente non piacciono moltissimo però se devo verificare la messa a fuoco l'utilizzo di questo è quasi d'obbligo e questo è un 10x quindi ingrandisce di più e addirittura qui ne ho uno che è anche 15x ingrandisce ancora di più e questi sono anche abbastanza economici sono entrambi della della cartson poi magari se riesco vi lascerò tutti i link nel in sopraimpressione vediamo se cioè in sopraimpressione scusate nelle info nell'info box se li trovo vi lascio tutte le informazioni esiste anche il lupe della della kaiser che è un lupe molto buono ovviamente questo della pentax non lo troverete più sul mercato è anche molto raro sul mercato dell'usato e non è molto economico quindi lo pagherete anche poi esistono anche questi altri che possono essere messi anche all'occhio insomma io non è che mi piacciono moltissimo poi esistono invece questi della silvestri che vengono impiegati anche nei banchi ottici per andare a visionare la messa a fuoco direttamente sul banco ottico hanno sono in questa custodia hanno degli accessori che adesso vediamo a che cosa a che cosa servono se riesco a tirarlo fuori ecco ci sono riuscito e anche questo come vedete alla il tappo perché praticamente questi possono essere lasciati sul tavolo luminoso ed evitare così che che vada la polvere perché poi può essere anche complicato andare a pulire la lente dentro questi hanno la possibilità alcuni hanno la possibilità di girare e diciamo girare affinché si metta esattamente a fuoco sul punto dove state sul negativo quindi veramente ottimo questi vengono usati anche come vi dicevo all'interno del del banco ottico perché hanno tutta una serie di accessori che vedete qui io questo lo riesco a svitare completamente e anche a pulire hanno queste due opportunità cioè l'opalino davanti questo ha un opalino qui nella parte bassa che diffonde la luce mentre se invece non vorrete la luce diffusa c'è questo che viene sostituito adesso lo vado a sostituire a questo ve lo faccio vedere montato non mi ricordo come si faccia però si così si smonta si smonta questo che è l'opalino e si monta quest'altro che invece è non diffonde la luce questi sono due metodi che vengono utilizzati l'uno per il tavolo luminoso e l'altro per il banco ottico perché nel banco cioè sono due due accessori per un utilizzo diverso che si fa dello strumento però poi alla fine possono essere anche utilizzati alternativamente vedete voi come come vi trovate meglio ovviamente per me sul tavolo luminoso preferisco la diffusione della luce cioè questo anche perché poi alla fine questo ha anche una lente quindi insomma preferisco ecco per intenderci una cosa come questa che mi diffonde maggiormente la luce piuttosto che mi dà una luce puntiforme soltanto sul sul negativo però questo al di là del fatto che eh lo strumento viene utilizzato per il banco ottico quindi per andare proprio nella precisione a vedere all'interno del banco ottico e avere una luminosità maggiore che può essere data appunto da anche dall'opalino però bisogna poi prenderci un po' la mano questo ha anche una lente aggiuntiva sotto l'opalino è veramente uno strumento molto molto interessante questo della Silvestri anche questi della Silvestri non so quanto esistono ancora sul mercato e e qui abbiamo un altro della Silvestri molto simile anche questo con la sua custodia e con l'opalino adesso andiamo a vedere anche questo questo è più più grande come possiamo vedere più grande ed è lo stesso principio anche questo si smonta poi il vantaggio di questi della Silvestri sono sicuramente la possibilità di aggiustare la diottria che è una cosa veramente ottima e in questo più piccolo che ha anche un rapporto di ingrandimento maggiore è anche presente la millimetrica cioè una croce con i riferimenti millimetrici cosa che invece non serve in questo anche questo ha la possibilità di smontarlo come dicevamo quindi si può smontare la la parte anteriore e sostituirla con l'opalina questo che vedete che sto rimontando adesso ha una capacità di ingrandimento minore non mi ricordo se 4 o 6 rispetto all'altro che vi ho fatto vedere prima che invece ha una capacità di ingrandimento di 10x questo è il Silvestri ovviamente anche questi credo che dovrete cercarli più o meno sul mercato dell'usato ah poi chiaramente hanno questo cordino che potete mettervelo al collo per per comodità questi della Silvestri devo dire che sono sono fatti molto molto bene almeno al pari di quello della Pentax e anche questo avrà un costo che non non sarà banale quindi stiamo parlando di un di uno strumento molto utile e poi noterete la differenza se avete fatto ad occhio senza nessuno strumento o avete avrete utilizzato in passato una banale lente di ingrandimento utilizzando questi la visione di un negativo cambia drasticamente e anche la vostra capacità di percepire il il negativo stesso e quindi in qualche modo capire se è stato esposto bene quindi è importante vedere i negativi ed è importante farsi una una cultura sul negativo perché sapere riconoscere la foto buona dalla foto cattiva direttamente dal negativo non solo è un'esperienza importante ma è una parte fondamentale come dicevamo prima vi farà risparmiare un sacco quello che volevo farvi vedere adesso è un ultimo modello molto costoso perché stiamo parlando di un Laika e questo è un 5x Laika è una casa che per la fotografia ha sempre costruito tutto quindi dall'ingranditore al al lupe a qualsiasi c'è anche il cordino vabbè lo mettiamo via il cordino non serve e ha costruito sempre praticamente qualsiasi accessorio per la fotografia non solo macchine fotografiche o obiettivi e questo è uno strumento veramente eccezionale guardate sotto ha un un opalino ma se vedete di lato vedete ci sono dei tagli qui c'è un accessorio che si sfila in questo modo che è un banalissimo porta negativo e un diffusore questo qui permetterà di inserire qui direttamente una diapositiva come lo visiono lo visiono in un modo molto interessante proprio perché c'è il diffusore io oggi ho la possibilità di andare a utilizzare questo che adesso vi accendo che è un pannellino luminoso nulla di che datemi un secondo che lo accendo allora questo pannellino luminoso io lo poggerò qui e farò una visione direttamente del negativo con un'esperienza veramente incredibile passando il negativo all'interno e non avrò quasi neanche bisogno del tavolo luminoso certo così è un po' diciamo complicato perché andrò a vedere un negativo per volta quindi quindi è un po' complicato però questo per dirvi che adesso lo poggio qui girato in modo che anzi lo poggio dietro guardate che ho una calamita lo metto lì in modo che che non mi dia troppo fastidio questo accessorio serve per il negativo il porta negativo lo inseriamo qui dentro e inseriamo il negativo ma lo inserisco in questo modo questo mi permette di visionare il negativo perché poi all'interno questo ha il frame del negativo se invece voglio visionare la diapositiva tolgo la il frame del del negativo questo e inserisco direttamente la diapositiva inserisco la diapositiva e posso visionarla direttamente se avrò una luce come quella che ho qui qui riuscirò a fare una visione praticamente del del negativo avrò una visione della della diapositiva o del negativo soprattutto se utilizzerò le diapositive poi questo sarà validissimo in un modo veramente straordinario sembrerà proprio di essere dentro la diapositiva e questo nel caso io voglio utilizzare questo lupe 5.5 per vedere le diapositive o appunto utilizzare l'accessorio per vedere il negativo l'altra cosa è che però il tutto si può smontare quindi si può smontare prima l'opalino e la lente ecco stavo per fare un danno enorme perché la lente mi stava cadendo questa è la lente ed è di vetro poi si può smontare il porta negativo e infine con un po' di forza si può smontare anche il direttamente il porta negativo e renderlo quindi un normalissimo un normalissimo lupe da tavolo luminoso ovviamente tutto questo come vedete ha anche la possibilità di ruotare e mettere a fuoco correttamente quindi questo lupe della della laica è veramente un ottimo un ottimo prodotto un ottimo prodotto che però costa ed è anche abbastanza raro quindi non so proprio se siete appassionati come me prendetelo altrimenti vi dico di lasciar perdere ma insomma ce ne stanno altri sicuramente più più economici va bene niente io ho fatto questa panoramica sui lupe era una panoramica veloce perché poi magari qualcuno mi ha mi ha chiesto informazioni quindi può essere sicuramente utile poi chiaramente scegliete il metodo per visionare il negativo che più ritenete opportuno le diapositive la cosa che vi invito sicuramente a fare però è quella di visionare e farvi l'occhio sulla negativo cioè capire dal negativo se la foto è stata esposta bene esposta correttamente non affidarvi alla scansione so che oggi nel mondo del digitale non che sia particolarmente contrario la scansione è uno dei metodi principali mi fanno la scansione vedo subito se la foto è buona ma la scansione soprattutto se poi andrete in camera oscura potrebbe ingannarvi perché ci potrebbe essere un aggiustamento che è stato fatto diciamo via software e quindi non rispecchia la reale esposizione dell'immagine che poi magari andate a stampare sotto l'ingranditore la scansione vi creerà un file trasformerà una fotografia analogica in una fotografia digitale o parzialmente digitale poi il processo della stampa digitale segue il processo digitale se invece volete seguire il processo di stampa analogica dovete partire dal negativo e dal negativo ben esposto messa a fuoco come l'avete messa a fuoco ma dovete essere convinti di ciò che vedrete per questo serve un lupe e anche l'inquadratura ovviamente riuscirete a vederla molto più velocemente prima magari di andare a fare la scansione oltretutto le scansioni anche se ve le fate fare da un laboratorio costano costano tanto quindi se poi le farete da soli il tempo è sicuramente una risorsa preziosa quindi andare a scansionare foto che magari sono sfocate che avreste scantato non vale la pena quindi investire in un lupe è sicuramente un investimento in termini di diciamo di conoscenza che vi darà lo strumento e in termini di tempo e denaro che risparmierete bene questo è tutto fatemi sapere voi cosa ne pensate non dimenticate di iscrivervi al canale se non se non l'avete già fatto appunto attivando anche la campanella qui sotto e lasciatemi un like se il video vi è piaciuto a me farà sicuramente piacere e noi ci vedremo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti